La Lituania continuerà ad essere un partner responsabile dell'Unione Europea e dell'Ucraina se il centro-sinistra formerà un nuovo governo. Lo ha assicurato l'ex presidente lituana Dalia Grigbuskaite in un'intervista a Euronews. La sicurezza nazionale è una delle preoccupazioni che hanno caratterizzato il recente processo elettorale in Lituania. Per l'ex capo di Stato del paese un accordo di pace in Ucraina che permette alla Russia di mantenere i territori conquistati come intende fare Vladimir Putin non farà altro che dare spazio alla Russia per preparare una nuova aggressione ad altri paesi vicini come gli stati baltici. La scuola di Sottotitoli è un problema di potere. Quindi, come si è un problema di potere, la scuola di Sottotitoli è un problema di potere. Non solo di russi, ma di potere. E soprattutto quando Putin ha fatto un'aperti war, un'aperti war per loro, non ha no way back. Non è il tempo di più di più di tempo, e questo significa che in un modo più intensivo o meno intensivo sarà sempre pericoloso per l'Unione Europea e per l'Italia.